Sì, dunque. Ho saputo che c'è un asteroide, una cometa o altro, che non le piace. Me ne parli? E poi mi dica perché me ne parla. A 20 minuti. Diciamo il 70% e non ne parliamo più. Non si avvicina neanche al 70%. Non si può andare in giro a dire alla gente che ha il 100% di possibilità di morire. Capite? Da pazzi.